La ringrazio per aver voluto partecipare a questo tradizionale appuntamento organizzato dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione Stampa Parlamentare. Il Mizzaglio d'Oro è un premio che viene assegnato da voi utenti al giornalista che più si sia reso servizievole, in altre parole, che più abbia leccato il sedere, alle case farmaceutiche. Luca Telese Io direi immediatamente e subito per gli over 50 carabinieri a casa di chi non li vuole fare perché... A differenza di Telese però Paone ha un tocco in più perché lui riesce a recitare il suo ruolo facendo continuamente delle strane faccine, specialmente quando si accorge di essere ripreso dalle telecamere. Siamo rimasti in tre, tre somari, tre briganti e dobbiamo vaccinare a tutti quanti.